Euromobilia presenta gli acquisti di Marisa Laurito Oh, sono arrivate le nuove cucine! Ma questa parte... Scusi, c'è un po' di polla, sa? E' colpa del tasso, è zero? Eh, ma si sa che da Euromobilia ha fatto il tasso in zero e che le volte sono piccole, piccole, piccole C'è questa con il cammino? No, veramente io vorrei qualche cosa più bello No, mi piacerebbe qualcosa di più grande No, vorrei qualcosa di più sombrio Eh, sentelo a far dire che cosa vorrei Mi piacerebbe qualcosa di più elegante Questa! Per ora voglio che è più piccola Ottima scelta! 70 euro per 36 mesi e la prima rata tra 6 mesi e le rate piccole Eh, piccole, piccole, piccole 36 mesi a tasso zero Prima rata tra 6 mesi Euromobilia Quarto, Napoli